Cucu bentrami, bentrovati, bentrovati. Oggi San Valentino auguri a tutti gli innamorati, a coloro che festeggiano l'amore. Sono senza rossetto perché ovviamente parlerò di rossetti, ne indosserò tre con voi. Sono tre rossetti vintage del famosissimo marchio Revlon, marchio statunitense con sede a New York, fondato nel 1932, che ahimè quest'anno a giugno, giugno 2022, ha dichiarato fallimento ed è per questo che i suoi rossetti, i suoi prodotti sono andati così virali sui social, su TikTok in particolare, ma anche su Instagram. La mia musa ispiratrice è una ragazza americana meravigliosa che vive in un mondo tutto vintage. Vi lascio a lato la sua pagina, vi invito a seguirla, lei è seguitissima. Non avrà sicuramente bisogno dei miei follower, ma lodevole, meritevole per tutto l'impegno che mette nella cura degli outfit veramente stupenda, Miss Maverick Muse. In questi giorni mi sono anche imbattuta nelle stories di Martina Vinay che ha comprato sempre rossetti Revlon, ma credo che sia un'altra categoria, sono forse i rossetti più glossati. I miei invece sono proprio i Lustrous, credo si chiamino così, cremosi e ce n'è uno per l'escente. Questo video nasce dalla voglia non solo di contribuire al salvataggio di questa storica azienda, è anche il motivo per cui le beauty influencer si sono messe di buona lena a promuovere i prodotti di Revlon perché hanno caratterizzato l'adolescenza e non solo la giovinezza di molti di noi, poi capirete perché, ma soprattutto negli anni 90 Revlon è stato un punto di riferimento per le teenager e non solo, per le donne di tutto il mondo. È per questo che sono andati così virali. L'ho fatto anche come investimento per me stessa perché ho acquistato dei pezzi che andando sold out aumenteranno di valore e poi vedendo che rossetti sono capirete anche il valore che assumeranno nel tempo. Riuscite ancora a trovarne nelle profumerie da Tigotao visto che ci sono più pochi pezzi, su Amazon qualcosa si trova. Io inizierei da un rossetto lanciato nel 1961, diventato famoso per il film Colazione da Tiffany. Il rossetto che la signorina Holly Golightly indossa sul taxi, la famosa scena in cui lei si ritocca il rossetto, è proprio di Revlon, è il 415 Pink in Afternoon, è un Revlon Super Lustrous Lipstick Cream. Direi che è un rosa antico e mi sembra con una punta di corallo, quindi lo indosso con voi e mi sento molto new yorkese. Come cambiano le mode dagli anni 60 al 2020? In un attimo le mie labbra hanno preso questo colore che è un rosa anni 60, un tuffo nel passato perché è un rosa inusuale per i nostri tempi, sicuramente di moda negli anni 60. È un rosa portabilissimo anche in estate per chi non vuole eccedere, per chi non vuole avere labbra troppo protagoniste. È un rossetto molto cremoso, molto idratante, è un bel rosa. Eccolo qua, questo è il rosa di Pink in Afternoon 415. Dagli anni 60 passiamo agli anni 90, da un'icona di stile come Audrey Hepburn arriviamo ad un'altra meraviglia, ad una delle top model più pagate, più apprezzate per quanto riguarda gli anni 90. Sto parlando di Cindy Crawford, a cui sono particolarmente affezionata perché negli anni 90, io ero diciottenne, mi affacciavo nel mondo universitario e quindi anche questa somiglianza, oso dire, ma solo per il neo che lei ha più spostato sul labbro, io invece lo ho più esterno. me la fa particolarmente amare, avevo i diari tempestati dalle bellissime supermodel, da Linda Evangelista, Cindy Crawford in particolar modo, perché era una bellezza anche più formosa rispetto alle altre e insomma ha caratterizzato moltissime campagne pubblicitarie di Revlon che negli anni 90 lanciò una serie di rossetti marroni, tra cui l'iconico 300, è sempre un Revlon superlustrous lipstick, perlato, coffee bean, bellissimo colore molto anni 90. È passato un sacco di tempo ma su di me lo vedo talmente attuale, questo bellissimo granello di caffè, bellissimo, sono i colori che andavano negli anni 90, per chi è coetanea, per chi ha la mia età, ben si ricorda che questi erano i colori, stupendo, anche il numero 300. Arriviamo all'ultimo solo per oggi perché ne ho in arrivo altri, ho fatto una pazzia, vi ripeto, è anche un investimento perché questi rossetti andando sold out saranno introvabili, non più recuperabili, non più replicabili, a patto che l'azienda si risollevi dalla bancarotta. Dagli anni 90, ritorniamo agli anni 50, 1951-1955, Revlon lancia il Love, Dead Pink, un fucsia, un rosa cremoso, molto molto particolare, che ha caratterizzato le campagne pubblicitarie dell'epoca. Dovete sapere che arriviamo dagli anni 20, dagli anni 30 e gli anni 40, dove il protagonista era comunque il rosso e già dal bullet vedete che è un rossetto non tanto rosa quanto invece rosso. Ora andiamo a indossarlo e vediamo come evolve sulle labbra. questo è un cremoso come quello di colazione da Tiffany, il Pink in Afternoon. Sono molto molto cremosi, sono molto idratanti, sicuramente vanno contornati con una matita labbra, sono arricchiti anche con vitamina E. Sono comunque delle nuance particolari che vi fanno fare un viaggio nello spazio-tempo, non so come dire, sono comunque nuance che hanno caratterizzato varie epoche, quindi mi vedo molto strana sia con il rossetto di colazione da Tiffany, 1961. Mi vedo altrettanto strana con questo pink che dovrebbe essere un fucsia, in realtà ha quasi un corallo come sottotono, è veramente molto bello, ma sarà che ora ho il colore dei capelli cioccolato. Il mio preferito in assoluto è il 300 Coffee Bean, che mi rimanda moltissimo a Cindy Crawford, insomma c'era anche una pubblicità con Claudia Schiffer. Se volete rituffarvi negli anni 90, sicuramente il 300 perlato Coffee Bean è sicuramente favoloso. Questa è la prima triade dei rossetti vintage di Revlon, in attesa che arrivino altri e vi dico, se volete aiutare l'azienda, se volete comunque investire nel vintage makeup, potete farlo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, dagli anni 50 ritorno ai giorni nostri, vi auguro un buon San Valentino e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!